Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Mara Venier ha aperto la nuova stagione di Domenica Inn con un tributo a Luca Giurato, scomparosa di un infarto durante l'estate a Santa Marinella. Il 15 settembre, Mara ha espresso la sua gratitudine al giornalista che l'aveva supportata nel 1993 per la sua prima stagione dello show. Tornata sullo schermo di Rai 1, Mara ha iniziato il suo discorso ricordando Luca e ringraziandolo per averle dato l'opportunità di iniziare la sua avventura televisiva. Un videoclip ha mostrato i momenti più significativi della loro collaborazione, con risate e momenti di grande emozione durante le trasmissioni in diretta. Le parole di Mara sono state un sentito omaggio a Luca. Ciao Luca, se sono qui oggi è grazie a te. La presenza di Mara Venier ha reso omaggio a Luca Giurato, sottolineando l'importanza della sua figura nella sua carriera televisiva. La loro collaborazione è stata ricordata con affetto e gratitudine, evidenziando l'importanza di Luca nel lancio della carriera di Mara. La prima stagione di Domenica Inn è stata un momento speciale per entrambi, con momenti indimenticabili che hanno segnato la storia dello show. Mara Venier ha aperto la nuova stagione di Domenica Inn con un tributo commovente a Luca Giurato, ricordando la sua figura con affetto e riconoscenza. La loro collaborazione è stata celebrata con immagini e ricordi che hanno emozionato il pubblico, sottolineando l'importanza di Luca nella carriera di Mara.